ben trovati a tutti e come vi avevo promesso siamo tornati da alex in questo caso però in veste di mago alex perché mago alex ce lo spiega direttamente lui salve bentornati bentornati mago alex perché io sono un prestigiatore nasco come prestigiatore e fin da tenere età di otto anni ho avuto la passione mi è entrata questa passione sto virus che mi ha contaminato e mi ha fatto conoscere questo splendido mondo che è il mondo della prestigitazione del mistero di tutto ciò che riguarda un po la magia mi dicevi che hai spaziato molto nell'arte non solo ma anche nell'ambito della recitazione e se non ne ricordo male hai anche avuto uno studio importante che ora ci racconti dove dove hai studiato in quale come come scuola non ho frequentato scuole magiche anche perché in italia esistono più che altro dei club magici come il club magico italiano e poi ci sono in regioni d'italia per sempre un toscano ci sono sempre gruppi che fanno poi capo al club magico italiano ma in realtà scuole vere e proprie ora sono uscite un po delle scuole ma erano quasi tutti autodidatti quindi erano tutte persone che con la passione della della magia si avvicinavano altri che facevano la professione del mago come ho avuto io poi dall'altro mi sono avvicinato a questo mondo osservando e rubando con gli occhi tutto ciò che avveniva magari da vedevo da altri prestigiatori quindi cercavo di carpire i giochi anche perché prima c'era una forma di di segreto quasi impossibile da poter spiegare quindi anche il professionista che aveva davanti l'allievo lo teneva sulle spine non spiegava mai e poi se riusciva a individuare delle caratteristiche di talento e quindi avrebbe lo portava piano piano passo dopo passo a imparare le regole fondamentali che non era tanto il gioco ma di come dovrebbe essere presentato un gioco di come doveva essere gestito davanti a un pubblico e questa è la magia quello che purtroppo oggi si un po per i giovani soprattutto si vede un po abbassata di questo questo livello perché tutti vanno a seguire su internet video di altri prestigiatori tendono a copiare ma non a personalizzare l'arte che dovrebbe essere invece la fonte di portare avanti questa cosa meravigliosa tra i tuoi spettacoli di punta numerosissimi una carriera importante quale episodio e quale spettacolo puoi annoverare di importante ma io spettacoli ne ho fatti tanti facevo 180 serate l'anno quindi non è che però il mio non era uno spettacolo teatrale non era uno spettacolo era un mio era uno spettacolo di glos up cosa vuol dire glos up il mio era una forma di di magia ravvicinata ok in primo piano cioè andavo ai tavoli spesso nelle convention o ristoranti o alberghi o feste private dove spesso veniva chiamato il prestigiatore o meglio prima succedevano molto più era molto facile lavorare avere contratti ora un po meno con le crisi che ci sono comunque era una realtà che il pubblico partecipava a questo spettacolo diciamo in forma diretta a tu per tu quindi veniva stupito e quasi la magia entrava fa parte dello del meccanismo di vita su in quel momento ritornava bambino perché era una magia diretta magari erano a cena una convention magari di lavoro eccetera eccetera arrivava il prestigiatore al tavolo e chiaramente coinvolgeva quelle 5 10 20 persone che in quel momento stavano mangiando non interrompendo chiaramente la situazione però con gusto e con garbo e con professionalità riusciva a coinvolgere e a far conoscere questa cosa che è meravigliosa la magia non esiste prestigiatore se non con un mazzo di carte a quanto pare ho iniziato soprattutto la magia la mia è stata una passione globale perché uno inizia però con inizia con la voglia di conoscere un po tutto ciò che fa parte della magia quindi non solo le carte ma i piccoli oggetti che potevano essere benissimo da un semplice anello va bene si poteva trasformare in un altro oggetto oppure si poteva sparire di apparire dentro un'altra cosa una scatolina eccetera oppure dalle grandi illusioni oppure il bastone che diventa un fulano come far arrivare una colomba da un fulano uno inizia a conoscere tutto quello che è il mondo della magia poi uno si specializza come ho fatto io nel glos up come dicevo nella micro magia soprattutto nella carto magia che è proprio una una disciplina diciamo più che che una un'arte vera è una disciplina di studio di allenamento come per un pianista che si allena otto ore al giorno anche chi fa questo tipo di mestiere nella soprattutto anche la carto magia che ha bisogno di tecnica di di capacità di abilità fra virgolette ma soprattutto di di gestualità pulite bene e quindi deve allenarsi deve stare quotidianamente a almeno quelle cinque sei ore al giorno per per studiare per poi inventare cose nuove mi hai messo curiosità ci fai vedere qualcosa certo ti faccio vedere qualcosa chiaramente come avete ben capito io amo le carte quindi non mi sembra giusto mi sembra molto giusto poter fare un gioco con le carte io ho un mazzo di carte si vede un mazzo di carte 52 carte tutte diverse fuori quadri fiori picche ok e chiedo la partecipazione sono anche della della ragazza che qua può venire qui coinvolgo chiaramente salve tu conosci le carte posso darti il tuo allora è quello che chiedo normalmente al pubblico è quello di far chiaramente capire che il mazzo di carte non è un mazzo di carte truccato vuoi mescolare il mazzo di carte controllarlo che è normale non ci sono doppie carte oppure le carte sono normalissime anche perché il gioco e voglio fare una cosa molto rapida semplice a tu per tu dove veramente il mago non ha non ha possibilità di poter fare cose ok hai mescolato accuratamente ok tutto regolare poi normalmente maghi cosa fanno tu hai mescolato le carte non hanno fanno scegliere liberamente una carta tu hai come ti chiami scusami valessa tu hai mai scelto una carta in vita tua no allora prendi una carta che vuoi quella che vuoi prendi una la guardi non me la far vedere mi raccomando la fai vedere in camera non guardo guardo lui modo hai fatto ok poi ti chiedo un'altra cosa importante visto che tu hai scelto una carta liberamente nel mazzo di carte di prenderla inserita non voglio toccare le carte non voglio inserire la carta da un punto dove vuoi in modo che uno può pensare dice alex è furbo può aver visto dove ha messo la carta no io guardo se mescola bene le carte in modo che nessuno certo ok non troppo perché mescola 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 mescolare perfetto ok hai mescolato non ci sono possibilità di solare io normalmente faccio questa domanda tu hai mescolato hai messo la carta dentro del mazzo di carte hai mescolato accuratamente in un mazzo di 52 carte la domanda che ti faccio è semplice dove vuoi che vada la carta non voglio toccare le carte sopra metò in fondo sono scioccata in fondo in fondo sei sicura guarda non faccio cose strane c'è visto no tu hai visto qualcosa e la magia è come se fosse già attraversata la nostra ma è arrivata lì dimmi che carta viscola gira tutto il mazzo beh incredibile ragazzi no sì no ma chiaramente la cosa strana è che tu hai scelto una carta in 52 carte completamente diverse una dall'altra incredibile alex grandissimo alex ti ringrazio infinitamente preparati perché oramai è un appuntamento fisso quindi ci ritroveremo a breve grazie davvero grazie a presto ciao Grazie a tutti.